Ah che belli i vecchi tempi! Chi non si ricorda di Yashica? Yashica, uno dei brand più famosi all'epoca di macchine fotografiche, ritorna sul mercato con la sua, dov'è? Y35. Questo video è dedicato a tutti i nostalgici della fotografia retro. Yashica, uno dei brand più famosi giapponesi degli anni d'oro della fotografia analogica, si ripresenta sul mercato dopo aver chiuso battenti qualche anno fa, ha ceduto la società, i proprietari del marchio hanno ceduto i diritti del marchio ad una grande società cinese che ha rimesso in piedi il brand proponendo una fotocamera che sia, che doveva essere un ibrido tra il passato e il futuro. Beh, ci saranno riusciti? Lo scopriremo alla fine di questo video. Insomma, questa è la Yashica Y35, una camera assolutamente retro. Questa camera si chiama Digifilm Camera e perché c'è un motivo ben specifico, ma prima di arrivare a quello voglio mostrarvi la confezione. Allora, questo progetto di questa società, quindi per la rinascita di Yashica, è nato sul web, su Kickstarter per la precisione, dove hanno fatto una campagna Kickstarter che ha avuto tantissima rivalsa tra gli amatori e praticamente loro sul costo di circa 260 dollari vi inviavano a casa una di queste. Una scatola completamente molto bella perché ha il feeling retro anche se è una scatola completamente normale, con un motto molto ma molto bello ed interessante che è The Silence of the Story, cioè il silenzio della storia. Perché in tanti dicono hanno lasciato, hanno abbandonato il marchio Yashica e quindi hanno cercato di riportare in auge il marchio proponendo questa macchina digitale, analogica, una mistura così strana che neanche io so spiegarvela. Ora, abbiamo, questa è la camera, lente naturalmente fissa, abbiamo un coperchietto di plastica che andiamo a togliere e questa è la nostra camera. Ora, vi domanderete, ma che cosa ci stai mostrando? Una macchina di 30 anni fa? No, partiamo dal presupposto che è una macchina completamente in plastica, ha una qualità davvero davvero molto di danale scadente, meno male che io non l'ho presa su Kickstarter a 260 euro, ma me la sono riuscito a procurare su un'asta su ebay. Certo ho pagato un pochino, ma comunque volevo provarla, ero così curioso di volerla provare, che ho deciso di investire in questa piccola compattina che comunque è molto leggera, anche se è tutta plastica, è molto leggera da portare dietro. Mi ci sono divertito. Ora, abbiamo pochissimi controlli in realtà. Abbiamo il pulsantino per aprire lo sportellino, ma che vi aprirò dopo perché vi svela come funziona la macchina. Poi qui sopra abbiamo un finto caricatore per rullino, una slit out show che ha soltanto la forma, quindi se volete attaccare un faretto o qualsiasi altra cosa. Abbiamo il controllo per modificare i tempi dell'otturatore. Abbiamo un pulsante che serve per l'accensione, questa ghiera sopra qui serve per l'accensione. Il pulsante di scatto è il pulsante di ricarica dello scatto. Sì, perché per poter scattare una fotografia dobbiamo caricare ogni volta, altrimenti non ci permette di ripremere. Quindi ricarichiamo, scattiamo. Fondamentalmente questo sistema di ricarica a molla serve soltanto a sbloccare il pulsante, non fa null'altro. Perché questa è comunque una macchina digitale, dalle complete fattezze analogiche, ma è una macchina digitale. Infatti abbiamo un sensore da un terzo di pollice da 14 megapixel, che non si vedono proprio. Questo ve lo posso completamente assicurare che i 14 megapixel non si vedono. Abbiamo montato su una lente da 35 mm, equivalente a 35 mm f2, che non è possibile muovere il fuoco, non è possibile muovere nulla di questa lente, è un corpo unico in plastica. Come detto abbiamo la possibilità degli otturatori che vanno, qui la scheda, da un 5 centesimo, un 250esimo, un 60esimo, un 30esimo di secondo e un secondo, quindi per avere diversi tempi di esposizione, che purtroppo non sono molto ben chiari, perché qui è come se portasse l'esposimetro, quindi 0 più 1 più 2 in base a quello che andiamo a scegliere, lui metterà un tempo di scatto. E gli ISO mi direte dove si controllano? Beh, come si faceva una volta, gli ISO si controllavano con i rullini. Ebbene sì, perché oltre al vano che abbiamo sotto, scusatemi non ve l'ho mostrato, abbiamo una vite per attaccarla sul cavalletto e abbiamo un vano sotto dove troviamo un carellino per SD e una micro SD. Questa micro SD serve solo ed esclusivamente per poter scaricare le immagini dalla scheda, che comunque tiriamo fuori tranquillamente. Stavo dicendo, come si caricano i rullini? Beh, perché qui abbiamo ragazzi i rullini, rullini che sono completamente digitali, non analogici naturalmente, e la macchina va a batterie stilo, quindi le classiche stilo AA. Ora, parliamo di questa cosa qui che è quella che mi interessava più di tutte, ossia i rullini. Nella confezione che ho comprato, ho trovato, era il bundle di base, confezione che ora vi apro, vi mostro, alla fine porta soltanto la camera e quattro rullini standard. E poi sotto c'è un cavetto oltre a una cartolina di ringraziamenti. Escono una serie di rullini standard, che sono questi qua. Hanno praticamente la forma del rullino, ma dietro hanno dei connettori. Ora, ogni rullino ha una determinata caratteristica e specifica tecnica. Ad esempio, questo è un rullino Digifilm da 1600 ASA, quindi una volta si sceglieva il rullino in base agli ISO che si volevano utilizzare. Questo ad esempio è un Digifilm black and white, con questo si possono fare solo foto di bianco e nero, ma non è specificata a quanti ISO scatta. Mentre dall'altro lato abbiamo un Digifilm 6x6 per fare fotografie 6x6 e io in camera ho un Digifilm, lo tiro fuori perché è un po' scomodo, un Digifilm da 200 ISO. Ora, io li ho provati e ci ho giocato un pochino con tutti. Voglio essere molto sincero, se utilizzo il Digifilm da 1600 ISO non scatta 1600 ISO, decide la macchina come scattare. Stessa cosa a 200. Ad esempio mi è capitato di vedere fotografie scattate con questo, quindi quello da 1600 scattate a 800 ISO o questo qua da 200 scattate a 400. Mentre stesso discorso, a caso, come decide la macchina, mette gli ISO su quelli 6x6 e quelli black and white, ma ce ne sono almeno un'altra cinquantina di questi rullini digitali che si possono acquistare. Naturalmente per poter scattare la fotografia c'è bisogno per forza di inserire il rullino in questa posizione qua. Faccio vedere in questa posizione qua. Si chiude, per accendere la macchina si mantiene premuto in questo modo qua, comincia a lampeggiare il LED. Una volta che diventa in teoria viola si può scattare, ora è rosso perché non c'è l'SD dentro. Si preme, adesso ho dato un rumore, un segnale d'errore perché non c'è l'SD all'interno. Ora, io mi sono divertito, ho fatto qualche passeggiata per provare questa camera, per capire se realmente potesse ricordarmi lo scatto della fotografia analogica, perché io comunque, anche se sono piuttosto giovane, ho avuto mio padre appassionato di fotografia che ha scattato tantissime fotografie in pellicola e lui ancora a casa, una jascica completamente funzionante, completamente analogica, che purtroppo non ho il tempo di poter prendere e andare a scattare, semplicemente perché i rullini sono un pochino più reperibili e svilupparli è abbastanza costoso. È una cosa che vorrei fare, riuscire a scattare qualche fotografia in analogico, ma volevo capire se questa, al costo proposto, sarebbe stata interessante da portarsi con sé, che ne sono in vacanza, per scattare qualche fotografia particolare. Beh, vi faccio vedere qualche piccolo esempio, qualche scatto che ho fatto, sono davvero pochi, quelli riusciti bene, perché non avendo un ritorno e un controllo della fotografia, come giustamente siamo abituati in digitale, impostare i parametri, scegliere il rullino adeguato e scegliere il tempo di esposizione, non sempre riesce alla perfezione, anche perché mette a fuoco, secondo me, la messa a fuoco fissa, se questo è il mio punto di vista che va da, secondo me, un metro e mezzo ad infinito. Poi non abbiamo ritorno video, ma abbiamo questo oculare, questo EBF completamente sfasato rispetto alla lente, quindi guardiamo qui, ma realmente la camera scatta al centro, basta farci un attimo l'abitudine, ma il problema è che questo oculare è completamente in plastica. Io ho ancora le pellicole davanti al finto flash che troviamo qui davanti, perché l'ho utilizzata poco. Non c'è null'altro da capire, semplicemente guardare, testare e giocare con i vari rullini che escono in dotazione, o ce ne sono tantissimi altri che però non ho voluto comprare, uno perché sono poco reperibili, due perché i venditori su ebay li danno via a caro prezzo. Io sono stato fortunato perché l'ho trovata ad un buon prezzo ed è una cosa da avere e da conservare, perché è molto ma molto simpatica. Ora, della consiglio dipende. Questo è un accessorio con cui non si può lavorare perché le fotografie non hanno assolutamente definizione, sono fotografie analogiche digitalizzate, mettiamola sotto questo punto di vista. La qualità delle fotografie è molto discutibile, la nitidezza è molto discutibile, è soltanto molto particolare quello che riusciamo a tirarci fuori, ossia abbiamo una camera analogica che però ci scatta un file digitale ed è una cosa molto ma molto simpatica, ma che non a tutti serve, perché oggi con i filtri digitali, che paradossalmente è quello che fa questa macchina, applicare dei filtri digitali in macchina. Questi sono dei filtri digitali. Praticamente noi diciamo alla macchina che tipo di logia di filtro andare ad aggiungere sullo scatto che fa, li rende in quel modo. Ne vale la pena? Se avete la possibilità e riuscite a trovare ad un buon prezzo su ebay, vi consiglio di provarla perché comunque è a mercato, quindi anche acquistarla, giocarci, se però non vi piace rivenderla, io vi consiglio di poterci provarla. È soltanto simpatica. Io cercherò qualche link se la riesco a trovare e ve la metto in descrizione. Non so se io la terrò oppure la darò via. Di sicuro non la userò per lavorare, quindi o andrà qui sulla scenografia a far compagnia a quella vera che, se non sbaglio, è proprio una yashica. Sì, è una yashica vera quella che c'è lì sopra. O andrà a far compagnia a quella, oppure andrà via, la venderò anche io su ebay. È stato però una soddisfazione acquistarla. Se devo dire che ho sbagliato, no, perché mi ci sono divertito. Non c'è null'altro da dire. Sul serio, è un pezzo di plastica che ci ricorda tantissimo la macchina fotografica degli anni andati, che scatta delle fotografie in digitale con l'idea del filtro digitale applicato da un rullino digitale. Stop, non abbiamo, non c'è altro da aggiungere o da dire. È soltanto riportare in auge un vecchio marchio, un vecchio brand che ha fatto la scuola della fotografia. Insomma, siamo giunti alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un mi piace. Se ancora non siete iscritti al canale, non dimenticate di farlo, così siete sempre aggiornati su tutte le novità. Vi raccomando, seguite anche il podcast che sta uscendo contemporaneamente, perché gli stessi episodi sono pubblicati sotto forma di podcast e non solo perché il podcast poi ha episodi a sé che registro e pubblico anche su YouTube in versione integrale. Se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Cosa altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.